Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è Meghan Markle, una delle donne più conosciute e discusse a livello globale Sappiamo tutto su di lei, dalla sua carriera e vita privata. Ma avete mai visto sua madre? Lei si chiama Doria Regland La donna ha sempre cercato di rimanere lontana dai riflettori, ma i fan della duchessa di Sussex vogliono conoscerla a tutti i costi, scopriamo di più sulla bellissima suocera del principe Harry . Meghan Markle, il rapporto con la mamma Doria Regland, tutti i dettagli Non tutti sanno che Meghan Markle è legatissima a sua mamma Doria Regland. Le due hanno sempre avuto un rapporto profondo e speciale. Malgrado le difficoltà, sono rimaste unite senza mai separarsi . Durante un'intervista, la duchessa di Sussex, ha parlato proprio del rapporto con Doria e l'ha definita come una donna da cui prendere ispirazione, infatti, si augura con tutto il cuore di assomigliarle . Riusciamo a divertirci così tanto insieme, e nello stesso tempo riesco ancora a trovare tanto conforto nel suo sostegno . Anche il principe Harry ha un bellissimo legame con sua suocera È stato proprio amore a prima vista tra i due, addirittura, subito dopo averla conosciuta, ha detto che è una donna straordinaria e che lei gli ispira molto rispetto Ora è il momento di conoscerla meglio, scopriamo di più su Doria Regland . Chi è Doria Regland? La madre di Meghan Markle.Doria Regland, una donna forte e bellissima che ha attirato l'attenzione del popolo inglese, durante il matrimonio reale di sua figlia, per essersi presentata alle nozze con il piercing al naso . Una scelta che ha fatto molto discutere, soprattutto i giornali britannici . La mamma di Meghan Markle ha origini afroamericane ed è un'istruttrice di yoga, lavora al DD Hirsch Mental Health Services, un famoso ospedale psichiatrico in California Non abbiamo molte informazioni su di lei, dato che è sempre stata lontana dai riflettori . Ma sappiamo che è una donna forte, nella sua vita ha affrontato tantissimi ostacoli, soprattutto dopo il divorzio da suo marito, Thomas Markle . Ha cresciuto sua figlia da sola, proprio per questo Doria e Meghan sono molto unite . Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie . Grazie per la visione